ho già partecipato al corso di vendita strategica un anno fa però diluito in più sessioni e mi stimolava invece l'idea di fare una full immersion di tre giorni con altre persone con altri commerciali e con alcuni imprenditori di diverse aziende di diversi mercati per migliorare il mio atteggiamento commerciale ho realizzato l'importanza nel dare il giusto valore al cliente mettendo prima la persona e non il prodotto o il prezzo e andare oltre ascoltandolo e dargli un'utilità diversa da quello che si dà solitamente al cliente mi ha sorpreso il costante e crescente coinvolgimento di tutte le persone coinvolte che provenivano da diverse tipologie di aziende e mercati di varie età c'erano due imprenditori vari responsabili commerciali operatori commerciali sono stati tre giorni molto fitti intensi e ognuno di noi è uscito con un'esperienza nuova ci sono create anche delle partnership che stanno comunque continuando nel tempo è stato un corso molto intenso e molto strutturato mi ha trasmesso un nuovo punto di vista e una nuova prospettiva e sono tornato in azienda molto motivato e entusiasta di mettere in pratica questo nuovo metodo che mette la persona al centro del progetto e poi la location era veramente bella